salve a tutti oggi volevo recensire un liquido della dea che si chiama messico messico è un tabaccoso è un tabaccoso che unisce diciamo la l'atrocità della tacchia alla gentilezza di un altro tabacco che non mi ricordo quale sia devo dire che mi è piaciuto veramente molto questo messico e il nome ricalca effettivamente la sensazione che ti dai il liquido avete presente il messico no il messico è caldo arido c'è quella sterpaia color avanino chiaro no provate a bruciare quella sterpaia inalata degli odori avrete il messico della dea è un è un gusto però molto piacevole molto piacevole secondo me ed è un un tabacco di quelli che a mio parere si possono considerare all day questa parola americana è inutile cioè da svapare tutti i giorni l'unico appunto che posso fare a questo liquido che mi sento di fare è che è un po troppo industriale no aspe quello è un pregio non riesco a trovare un difetto specifico forse il packaging packaging a quando te ne so forse il packaging che a mio parere è orrendo davvero la boccetta poi insomma sembra meglio che la tenga lontano dagli anziani perché la usano come collirio secondo me e visto che il packaging non non è proprio eccellente sono costretto a dire alla di avergogna Grazie a tutti.